lui è tyson rottweiler di due anni e due mesi da settembre 2019 abbiamo conosciuto la dog bauer e abbiamo riscontrato veramente la qualità e tutto quello che c'è scritto sul loro sito vi posso garantire che è vero tyson all'inizio soffriva di dermatite aveva la forfora sul pelo oggi guardatelo è praticamente perfetto mangia tantissimo ovviamente le dosi consigliate quando mangia ecco a questo vizio che gli piace godersi il pasto consiglio a tutti la dog bauer la qualità il prezzo il peso lo staff è sempre pronto ad ogni esigenza e vi posso dire che lui è soddisfatto vero attenzione attenzione